Io, Movimento 5 Stelle, sconsigliere regionale, posso dire di aver toccato con mano quello che è già una grossa problematica legata all'autonomia differenziata perché ricordiamo che le regioni hanno già molti poteri, soprattutto sulla sanità, vogliamo capire come sarà l'autonomia differenziata, vediamo com'è la sanità oggi, soprattutto nei nostri territori, una sanità a due velocità, vogliamo replicare questo modello anche in altri settori come la scuola, l'ambiente, l'energia, i trasporti, già anche questo lo vediamo con il disastro che ha Trenod e a cui purtroppo i pendolari sono costretti, questo è l'esempio lampante di come si prospetta l'autonomia differenziata se ancora più rafforzata, quindi sicuramente possiamo solo che essere contrari a questa visione.